VEM Live 2023 immaginiamo insieme una forma possibile di futuro sicuro e utile per tutti noi lo facciamo insieme a VEM Sistemi che non a caso ha scelto il luogo dell'immaginazione Grand Hotel di Rimini per raccontare la sua idea di futuro e per farlo insieme ai protagonisti del suo ecosistema di eccellenza tra questi protagonisti c'è Vittorio Bittelleri di Cyber Guru ciao Vittorio ben trovato grazie grande piacere senti Vittorio una delle componenti chiave per poter correre verso il futuro possibile sicuro appunto e utile per tutti noi è proprio la security no diciamo perché insomma una delle fondamenta forse in questa fase di grande accelerazione ecco molti analisti dicono che però in questa fase molte aziende stanno commettendo l'errore di diciamo per cercare di tutelare il proprio patrimonio informativo per proteggersi di fronte a quella che è stata definita la tempesta perfetta della cyber security di avere un approccio un po' reattivo un po' a SIROS rispetto alle minacce rispetto a quello a quello che minaccia il loro patrimonio informativo ecco e secondo te cosa bisogna fare come come si rompe questo come vedi questo scenario e qual è la strada invece corretta da intraprendere ma io credo che il punto di partenza della tua domanda siano le due parole che ha citato anche Stefano Bossi durante l'intervento d'apertura semplicità e focus quindi diciamo avere all'interno dell'offering e delle soluzioni che proporre al mercato delle tecnologie che siano semplicemente molto semplici da gestire abbiano altissima interoperabilità e che quindi siano un po' il best of breed di quelle che sono le tematiche da affrontare nel caso specifico interoperabilità e semplicità io credo che siano le due parole chiavi per poter andare indirizzare problematiche sempre più complicate e articolate allora interoperabilità collaborazione come collaborazione vincente quella che ha cyber guru con van sistemi senti vittorio in questa fase le aziende stanno cercando tutte quasi tutte la sicurezza no e come risposta dal mercato arrivano input di ogni forma e dimensione da mega vendor intercontinentali internazionali c'è un'inflazione inevitabile di offerte di proposizioni no dentro questo mercato così competitivo così denso come sta andando la partita di un operatore italiano come ve la giocate ma sta andando decisamente bene oggi diciamo abbiamo appena concluso il terzo anno di attività commerciale e i risultati ci stanno confermando che stiamo abbiamo avviato diciamo la giusta abbiamo preso la giusta strada la giusta strada che fa sì che in qualche modo ci siamo mossi per differenza rispetto a quello che proponeva il mercato su un tema molto delicato come la cyber security awareness quindi formazione finalizzata alla trasformazione comportamenti e quindi siamo partiti non dall'aspetto prettamente tecnologico della cyber security ma siamo partiti da un concetto più metodologico certo quindi psicologia andragogia per riuscire a inserire all'interno dei dei dipendenti quelle nozioni che giorno dopo giorno fa sì che raggiunge l'obiettivo che siamo posti che molto ambizioso che vuole trasformare i comportamenti e quindi diventare la prima linea di difesa e la cosa la testimonianza più bella che abbiamo e che spesso diciamo sono i nostri clienti che sono i nostri sostenitori con i nuovi prospect che si affacciano cyber guru proprio a testimoniare che a distanza magari di un anno hanno visto un cambio posturale all'interno dei dipendenti delle proprie aziende noi quindi non dico che sia semplice tra virgolette ma abbiamo veramente oggi tanti clienti tu pensa che poco più di tre anni abbiamo più di 400 clienti all'interno della nostra piattaforma abbiamo aperto anche le filiali in francia in spagna quindi stiamo facendo il percorso di colonizzazione al contrario quindi questa cosa chiaramente ci rende orgogliosamente italiani ma viva viva il made in italy grazie vittorio allora abbiamo sentito parlare appunto come come aveva anticipato la security è inevitabilmente un tema di bit byte di grandi prestazioni tecnologiche ma anche di un approccio molto più largo come stavi raccontando tu e quindi un approccio che insieme a cyber guru e aven sistemi ci può portare verso un futuro possibile è veramente vantaggioso per tutti noi grazie mille grazie vittorio per la grazie a te marco grazie a voi